Ciao a tutti sono Spiga98, prima di iniziare la puntata di Techcraft numero 33 volevo chiedervi scusa per i problemi di rendering che si sono presentati negli ultimi video, ringrazio a tutti per le segnalazioni e ora gogliatevi il video, ciao! Ciao a tutti sono Spiga98, benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale, come vedete ho il libro in mano perchè sono appena tornato nella twilight forest, ho preso un po' di red, ho visto che lo stavo finendo, così siamo a posto per un pochino, niente siamo alla puntata numero 33, siamo in Techcraft come avete capito, sta piovendo, no vi prego, vi prego, Posso? Si lo so che posso Così era? Si lo so che si così, mangiamo, fatemi attivare un attimo il volume, si è attivato, perfetto allora iniziamo subitissimo, allora nella puntata scorsa abbiamo fatto la cook oven furnace, mi sarebbe questa, naturalmente ho lasciato il server un paio di minuti, tipo una decina di minuti acceso dopo la fine della puntata, in effetti un pochino la di oil, il creosote oil l'ha raccolto Ora vediamo un pochino se ci sono church wall, come si chiama, church wall 45, va bene va benissimo, quindi questa sta funzionando, lo lasciamo così tanto ormai il legno, c'è, non abbiamo problemi di legno di certo, magari sta scendendo un po', no vabbè sono sceso, è sceso solo i due stacchi, eh si, come vedete nell'angolino mi sto ricaricando, però basta adesso un attimo che, come vedete non è proprio piena, dobbiamo fare una cosa importante, allora, ho notato che qui avevamo lasciato un buco con questo cavo, tutto questo l'avevamo fatto se non sbaglio, perché se no si, ecco infatti per non farlo passare qui, io qua lo posso far passare in un modo spettacolare, ora vi faccio vedere allora, per farlo passare lì, senza che si attacchi, che si attacchi nei due cavi, abbiamo bisogno di un po' di cose, allora, paint, eccoci qua, allora, queste sono le cose che ci servono ci serve, che ne so, ora, no, queste come si facevano? Due iron e tre wall, wall, yes, iron, yes perfetto, ne facciamo fare due, giusto quello che ci serviva, che ne so, qualcosa di rosso, flower, abbiamo dei fiori, certo che ce li abbiamo, anche questo quindi uno lo facciamo blu, e l'altro lo facciamo giallo painter painter come vedete sono due colori diversi, voglio farci vedere come funziona, in modo molto semplice per evitare che si colleghino questi cavi, basterà fare tipo questo giallo poi questo lo tagliamo e quattro ok, opla facciamo di colori diversi, resteranno separati e questo ci permetterà di far funzionare la fornace, allo stesso tempo la fornace, scusate, l'MF e allo stesso tempo poter chiudere qua sotto bene visto che la terra ce l'abbiamo come vedete adesso potremo richiudere qua e nascondere tutto il nascondibile qua, vabbè, ho messo la sabbia prima mi sono fatto anche un giretto, ho tolto il fisher perché, aspetta, ve lo faccio vedere perché allora, dove era messo, cioè circa tipo qui non funzionava non funzionava più sì, vabbè, non fate caso a questo è soltanto uno dei buchi per prendere la sabbia che ho fatto niente di che allora, quello che vogliamo fare oggi è una cosa abbastanza importante a noi manca sempre il glass perché manca sempre la sabbia perché ci manca sempre la sabbia? non lo so forse perché bisogna raccoglierla ed è un po' una palla l'altro giorno abbiamo raccolto un pochino ma non durerà per molto in quanto ci servirà un bel po' di glass prima o poi perciò ho pensato ma visto che abbiamo cantonato l'idea di fare la farm di strings perché non usiamo la struttura per fare una farm di sand come ve ne ho parlato nella scorsa puntata ed è quello che faremo in questa puntata oppla, oppla leviamo un po' di queste cose lasciamo il cavo che ci servirà anche se è scollegato se non lo sbaglio però vabbè togliamo tutta sta roba ok, perfetto allora la funzione che voglio utilizzare per fare questa farm è quella di cui vi ho parlato l'altro giorno e sarebbe quella che è possibile trasformare oddio è possibile trasformare la cobblestone in sabbia che può sembrare una cosa stupida ma in realtà è molto utile anche perché la cobblestone la possiamo farmare in un modo abbastanza semplice mentre la sabbia non si può farmare in altro modo quindi bene utilizzeremo quella quella come si può dire quel crafting in modo abbastanza interessante ora vi faccio vedere allora visto che qua abbiamo già fatto il collegamento per arrivare fino a qui e ci servirà per adesso lo lasciamo così lo lasciamo aperto tu non ci servi più dobbiamo saltarti sopra perfetto anche tu non mi servi più in realtà e neanche tu non dovevo caderci dentro ok perfetto allora vediamo un pochino cosa ci serve innanzitutto ho due porte qua perché non vorrei che ci venissano a trovare dei mob allora abbiamo delle door no abbiamo della oakwood yes oh no no come vedete l'impianto si dovrebbe ricaricare automaticamente appena scende di appena ce n'è insomma quando c'è un solo pezzo di dmd oak il impianto si rifornisce di non so quanto vediamo un pochino di 256 benissimo allora dicevamo 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 allora per fare quella farm ci servirà abbastanza poca roba allora un po' di roba la possiamo prendere dalla vecchia farm di cobblestone quella che abbiamo fatto all'inizio della serie dovrebbe esserci qualcosa montata adesso non mi ricordo se l'avevo levata però no non dovrebbe essere tolta comunque si tratta di un block breaker alla fine ce l'abbiamo anche in quel altro farm intanto questa sarebbe comunque da eliminare perché come vedete non ha avuto vita troppo lunga allora abbiamo questa o merda ho fatto una cretinata oca oca cassio terra one terra two ok ok la mazza ok perfetto demoliamo tutta questa roba intanto non ci serve più qui perlomeno non ci serve più e utilizzeremo la cobblestone allora vi spiego il funzionamento intanto che demolisco un po' il funzionamento l'avrete già capito spero ma comunque è abbastanza semplice ve lo rispiego se non l'avete capito e ah si qua dobbiamo riattivare anche questa come l'ho disattivata da qui allora vi faccio un po' il volume che se no non mi sentite e vediamo un pochino qua l'energia come siamo messi scusate crash si forse è meglio se apro la gui senza usare senza avere niente in mano 25 ok si un po' pochino ma sti grandissimi non abbiamo fretta di avere altro hack sinceramente bene il rimolo allora dicevamo 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 non mi ricordo più il sito qua è un po' troppo buio per i miei gusti vediamo un po' se può spawnare qualcuno ecco sapevo one two three and four si messi un po' al membro di segugio le porte le avevo fatte la risposta è nope andiamo a fare una porta si ce la posso fare l'energia no no devo spegnere la farm subito vediamo un po' se va meglio dobbiamo produrre molta molta più energia su questo credo che siano d'accordo tutti compreso me quindi adesso andiamo a farla nanna innanzitutto aspetta che metto bene il mouse ah bello innanzitutto controlliamo si andiamo a nanna ok basta senza effetti sonori disse ok allora benissimo ora possiamo prendere un po' di oak fare due porticine one and two mandare a fangala tutta questa roba prendere anche un computer perchè ci serve dovremmo averne qualcuno yes timer in realtà sono tutti timer si ho collezionato qualche timer che dice ehi 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 quelle porte maledette one two perfetto così non abbiamo pericoli in vista perchè sento rumore di perchè ha risparmato un pig coso ah si vediamo se qua sta funzionando yes è arrivato il momento di portare qua dopo lo faccio tanto come cliccami vicino quindi alloga 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 dicevo 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 innanzitutto bisogna ricre... sentite anche voi questo rumore c'è una caverna qua sotto lo so ora perchè ho fatto tutta sta cacatta di scavare qua vorrei avere un piccone con silk touch così vediamo un po' di stone invece che doverla cuocere allora vabbè lasciamo stare tutta questa roba sì però non è una buona idea in realtà quella della cobblestone cioè non della cobblestone che dico quella di mettere la farm di sì di cobblestone qui dentro con la lava perchè è fatto di legno in effetti sarebbe meglio metterla più in là ma no ma forse vabbè facciamo un piano sottoterra sotterraneo ma sì ma facciamo un piano sotterraneo va bene costruiamo un piano sotterraneo grazie a tutti eccomi qua questo è il piano sotterraneo di cui vi parlavo questo ferro però ce lo prendiamo in effetti potrebbe servirci eh sì poi qua metteremo una scaletta magari se prende l'impianto sì eh sì stairs no ladder sì in effetti mi ricordavo di averne qualcuno naturalmente poi miglioreremo come abbiamo fatto con la casa insomma lo sapete già ok e qua sotto utilizzeremo questo spazio per fare effettivamente lo spawner vero e proprio mangiamo un po' ok allora qui abbiamo anche il cavo dello strimpianto quindi siamo a posto completamente possiamo iniziare subitissimo quello che dobbiamo fare è dis ci vuotiamo un pochino perché abbiamo troppa robaccia sì vabbè un po' di cobblestone però ci serve cobblestone ok lo mettiamo qui perfetto iniziamo subito allora se non sbaglio lo spawner lo spawner scusate la farm era allora era così 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 perfetto poi era così e poi c'era l'altro l'altra parte di cosa però non mi ricordo quale doveva scendere per primo come si suol dire no che cosa sto a fare no ci andiamo nel mondo in creativo un attimino perché perché non mi ricordo bene come era sì non so farlo farlo di cobblestone no non è vero non è che non so farlo what the fuck eh sì mi ricordo che eccola vabbè non siamo in creativo no 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 oh adesso sì che lo siamo ciao quindi deve essere 1 2 sì come stava lo stavo facendo bene devo far scendere prima l'acqua e poi la allora secchio come si scrive secchio come secchio come secchio facciamo la lava bucket bucket facciamo così mettiamo un blocco andiamo un pochino allora facciamo scendere l'acqua poi mettiamo la lava si prima l'acqua e poi lava si ok perfetto usciamo un attimo da qui riendiamo nel nostro mondo eh di techcraft e dobbiamo fare esattamente quello di cui vi ho parlato in questo istante quindi 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 questo deve stare più in qua se non sbaglio no ma che dico ma che faccio soprattutto devo fare così è così più o meno poi lo chiudo così poi faccio così ops no no così più o meno così e metto prima acqua and e poi va qui cosa sei tu sei un buco sei un bauco eh si prendiamo un po' di dirt poi vabbè ve l'ho detto poi lo miglioreremo miglioreremo l'estetica però per adesso dell'estetica non ce ne frega più di tanto andiamo a prendere un secchiellozzo d'acqua e un secchiellozzo di lava sperando che ci sia la lava se no dobbiamo andare a prenderla eh il che non mi piacerebbe più di tanto a me che non aspetta che mi sta venendo diventare una cosa vabbè vabbè non abbiamo né acqua né lava porcaccia però la lava mi ricordo che si poteva prendere da una cosa da la netherrack se non sbaglio eh lava lava dalla netherrack magma crucible magma crucible dio magma crucible netherrack ce l'abbiamo qui il magma crucible ah il magma crucible ce l'abbiamo qui su dovresti essere tu yes sac ma poi qua puoi riempirmi secchi spero di si si io so che tu puoi farcia diciamo che riduciamo il tutto a qualche secchiello diamo un po' quanto dà perfetto ti amo ti amo ti eh si vabbè mettiamo questo secchiello dai così ce l'abbiamo di riserva di riserva oddio mettiamo la netherrack a posto ci prendiamo un altro secchiello se ce l'abbiamo magari prendiamo questo beh recicliamo anche se chiusate notte no in realtà sto tramontando però vabbè non ce ne frega più di tanto perchè siamo qua dentro al sicuro al sicuro parliamone però vabbè sento ancora questo rumore di vabbè vabbè saranno le mie orecchie si si sono sono le mie orecchie poi mettiamo la lava perfetto tada ora 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 il problema sta nel mettere il block breaker block breaker oddio potrei che ho appena tirato il cavo del microfono block breaker yes perfetto quindi qua posso chiudere block breaker l'ho messo posso chiudere anche qui quindi e niente ora no qui ci vuole il computer e anche la cesta magari ci prendiamo una cesta così per il momento perchè non c'è corrente è mancata la corrente e nel maledetto no basta non capisco eppur si muove proviamo a spegnere no scusate a cosa è collegato questo fatemi pensare guarda qui non c'è niente la farm dovrebbe essere spenta infatti è spenta zero spenta e non capisco non ti basta l'energia ti è sempre bastata sino oggi e poi mi serve cosa mi serviva una cesta chi cesta no vabbè freghiamocene del fatto che sia notte del fatto che è notte è notte non si vedeva mettiamo subito questa cesta qui and il computer che partirà da solo per questo ho messo merda me lo ho messo bene il computer è setato bene nel senso che credo sia proprio quello della farm in realtà però vabbè dettagli perfetto quindi la cosa di cobblestone ce l'abbiamo ora vorrei vedere no vabbè lasciamo pure questa cesta è sprecata naturalmente perciò mettiamo una cesta più economica tanto non ci serve niente mettere una cesta gigante visto che qua verrà presa in automatico dalla dalla avete capito insomma qui posso accenderlo perfetto allora colleghiamo subito con gli ame cable che non ci siamo portati ce ne siamo portati pochissimi ma d'altronde io sono spiga 98 e lo sapete come sono fatto io sono la m sono l'm controller ho l'm macchinario e devo importare quindi mi serve un import si è ragionamento che faccio dove ti trovi tu mi servi ok vorrei farlo passare in modo simpatico e carino però sono tentato dalla ecco la tentazione ho vinto volevo farlo molto carino però io sono spiega intanto eh si ok le diciamo prendi tutto quello che vuoi a stack prenderà la cobblestone e qua su le diciamo non qua su le diciamo non qui bensì quindi qui non abbiamo usato niente in realtà non ci serviva niente questo piano lo utilizzeremo per un'altra farm magari quella di string utilizziamo il piano di giù perché ve l'ho già detto qui prenderebbe fuoco tutto ebbene sì benissimo torniamo a casa e finiamo l'impiantozzo allora dobbiamo fare una cosa abbastanza semplice quello che dobbiamo fare è questo questo allora dobbiamo dirle ehi ciccio perché non ti prendi la cobblestone no aspetta aspettate 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 per diventare sabbia la doveva pulverizzare giusto qua dice esci su quindi sì qua diciamo tu cosa sei a cosa serve un import mi serve un export eccolo qui è un cavozzo magari anche porcaccia però mi no 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 assolutamente no no mi serve stone se ne abbiamo ancora ma non ne abbiamo mettiamo ops ops dammelo dammelo mettiamo a cuocere un po' di cobble nel frammento diciamo diciamo che facciamo cacchio ecco facciamo così lo sbranchiamo un pochetto io spero che non siano tutti qua i tubi che abbiamo della M ahah perfetto sì so che non ce ne servono così tanti però vabbè e le diciamo no cosa stai facendo entrare fermo 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 devi fare solo la cobblestone è la stack grazie così ci triturerà la sabbia cioè ci triturerà la cobblestone che diventa la sabbia se adesso le diciamo ok ho visto la sabbia perciò non c'è bisogno di dire se non le diciamo innanzitutto prendiamo un po' di stone che troviamo nell'impiantozzo grazie la mettiamo qui visto che non ci serve più aprire qui perché mi ho fatto il collegamento abbastanza simple sì mi piacerebbe arrivare là in fondo però non ci arriverò mai ah sì mi sono dimenticato di far vedere una cosa per ovviare dal fatto che qua restava un buco non indifferente ho messo queste specie di cose che sembrano dei peni in effetti facciamo una foto ai peni perfetto sì sembrano dei peni in effetti effettivamente sì la cucoven continua a funzionare qua ha smesso di dare liquido perché in realtà è molto lenta molto molto lenta qua mi sa che ci metto un level emitter perché non può prendere all'infinito come si suol dire la cobblestone perché un po' di cobblestone ci serve comunque facciamo che fatemi pensare vabbè per adesso lo lasciamo fare poi ci verrà qualcosa in mente sicuramente adesso prendo la cobblestone la mette qui diventa send vediamo un pochino se sta diventando send send yes atteggiamo la farm di cobblestone però prima andiamo a nanna a nanna e poi oggi facciamo un'altra cosa allora mi interesserebbe fare una furnacce di cui avevo parlato nelle puntate scorse un bel po' di puntate fa anche se l'energia che abbiamo non è proprio tantissima però ci dovrebbe bastare spero se non ci basta poi vabbè abbiamo fatto una cazzata lo metto vediamo un po' yes cobblestone gratis chiudiamo qui andiamo qui e poi mi interesserebbe anche fare un computer con un monitor gigante che ci dice tipo questa farm è accesa questa farm è spenta questa farm è accesa e questa farm è spenta sarebbe interessante allora dove sto andando dove sto andando dove sto andando la fornace che mi interesserebbe fare prima però mi vuoto l'inventario nel tanto ve ne parlo è la fornace che si chiama induction furnace mi interesserebbe farla per il semplice fatto che è molto 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 veloce ho appena messo un bucket qui due bucket addirittura ma non devono essere per niente lì mettiamo la stone mettiamo i tubi mettiamo la gold chest perché è velocissima innanzitutto è molto veloce però ha una pecca prende tanta ma tanta ma tanta ma tanta ma tanta energia soprattutto all'inizio il che la potrebbe rendere un pochino difficile e poi soprattutto non è troppo veloce da fare e ci vogliono dei macchinari per farla però noi ci proviamo lo stesso questa qui è l'induction furnace va con l'energia dell'industrial craft e come vi ho detto non è delle più semplici da fare però vabbè carbon plate compressore ci salirà il compressore eh sì allora compressor vediamo un po' se è fattibile la cosa compressore vabbè il compressore è abbastanza semplice se facciamo electric furnace oddio che succede allora redstone ops abbiamo dell'iron speciale però mettiamo qua c'è un pochino manca di nuovo l'energia ma che succede per questi veramente eh sì cosa devo fare ma sì già no aspetta dove vanno a finire ah già già vengono presi poi qua no ma che dico non deve entrare niente qui a parte questo perché sta entrando la cobblestone già l'avevo messa io la memoria allora allora buttiamo via questa cobblestone non so più cosa fare perché c'è poca energia perché c'è poca energia cioè voglio dire azzo cos'altro vi devo mettere cos'altro questo portale mi ha leggermente arrotto non mi piace troppo è un po' scomodo da avere qui in mezzo alle bowls bowls che questo è un po' la scocciatura dell'impianto che ha bisogno di molte e molte energia perciò boh così sa che la colleghiamo l'altra energia perché sta facendo un po' cilecca dove ti trovi il tubo? eccolo qui allora scolleghiamo da questa e la colleghiamo a questa qui anche se deve fare un bel giro perciò perciò sono un coglione riazzacchiamolo facciamo prima a spegnere le fornacce per un attimino poi vedrò un po' cosa fare comunque abbiamo bisogno di un'altra fonte di energia perché non ci basta più a quanto pare ok sembra che si sia stabilizzata mettiamo questa allora dicevamo non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo ah già 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 copper cable grazie a dio ne ho fatto un bel po' quanti ce ne serve? uno per la fornace quanti ce ne servivano? nessuno anzi si un altro perciò lo facciamo qua lo facciamo già da adesso eh compressor allora circuiti li abbiamo fatti quello che dobbiamo fare adesso è un machine block con gli iron speciali non so perché li chiamo iron speciali sono semplicemente iron lavorati un bel blocco lo abbiamo fatto a questa roba no sta scendendo l'energia veloce veloce no mi sto giro no 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 ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego stone 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 o leh compressor ecco qui allora si il compressore lo possiamo anche attaccare a questa energia se non fosse che non ho passato il cavo fatemi vedere un po' ma si dai attacchiamolo a fianco ho messo un po' a numero di segugio come mi è solito fare ma si è bellissimo così è abbastanza lentuccio devo dire la verità ok fermi innanzitutto fermiamo questa merda perché fermiamo questo purtroppo non siamo in grado di poter reggere tutta questa cosa ok togliamo questa cobblestone perché mi serve purtroppo l'impianto perciò ok è ufficiale nella prossima puntata dobbiamo trovare un altro metodo per avere energia fantasia sesso vedrete tornata l'energia utilizziamo l'industrial craft molto probabilmente perché ci sono più pesci va bene eh si dicevo 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 allora per fare dobbiamo fare l'induction furnace per induction furnace dobbiamo fare diverse cose dall'electric furnace che è abbastanza semplice quindi noi facciamo prima l'advanced coso dobbiamo fare l'advanced alloy e quindi servono due mixed metal ingot quindi servono allora tre refined tre bronze tre tin allora refined tin e poi copper allora il bronzo se non erro si fa con tre di copper e one tin bronzo bronzo dipendiamo un pochino perché oh è che cazzo non voglio stare ops mi scappata una parola c'è non voglio stare tutto il giorno la prossima puntata a fare bronze ci servirà allora mixed metal ingot possiamo iniziare a metterlo qui dentro in effetti come vedete è abbastanza lentuccio come vi ho già detto però ci si fa la 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 cosa furnace l'induction furnace quindi ne vale la pena carbon plate ci siamo due raw carbon plate quindi c'erano quattro raw carbon fibre quindi c'erano 16 coal dust quindi coal coal 16 ne abbiamo detto 16 e mettiamo a triturare come si suol dire infatti ok triturandola riuscirà il coal dust se diciamo a vedere una diapositiva coal dust perfetto cosa è che sto vedendo muoversi qua dentro vabbè è vero che l'impianto li fa vedere si 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 ok allora dicevamo dicevamo coal dust vediamo se ce l'ha fatto si velocissima come non mai facciamo queste 5 dai che ho fatto pulverizer tizio credo di aver topato in qualcosa coal non può essere non può esageratamente essere allora rifacciamo i conti un attimo perchè mi sto flipando anch'io credermi servono due carbon plate quindi servono due raw carbon quindi servono 4 raw carbon quindi servono 16 coal dust 16 di questi ma di questi ne servono ma per fare questi servono questi ne ho fatto uno in più raw carbon free fibre li utilizzeremo per qualcos'altro abbiamo già fatto questo quindi nel frattempo possiamo iniziare a fare electric furnace abbiamo una furnace normale la risposta è no però abbiamo cobblestone e la facciamo perchè così risparmiamo un po' di iron si sono tir che anche quando lo produciamo l'iron facciamo un paio così tanto per gradire vi spiego un po' come si fa iron oh merda così se non sbaglio si iron furnace poi dobbiamo metterci due redstone e un electric furnace mettiamo la redstone one and two electric furnace ora electric furnace dobbiamo aggiungere no fermi fermi tutti advanced machine block dobbiamo fare un machine block innanzitutto così prepariamo il crafting intanto adesso dovrebbero aver già finito di di compressare si può dire di comprimere anzi non di compressare insomma qualcosa questi li mettiamo qui andiamo a prendere questi ok grazie compressore li mettiamo così abbiamo fatto l'advanced tizio poi ci serve del copper in realtà non era poi così difficile da craftare alla fine eccola qui induction furnace allora prendiamo una leva questo è un momento che mi fa paura perciò credo che lo farò in creative prima ho paurissima proprio ho paurissima quindi lo faccio in creative eccomi qua sono nel mondo in creative come vedete ci dobbiamo un pochino questa roba che tanto non ci serve più e prendiamo allora furnace devo prendere l'induction e poi avremo sì abbiamo già un impianto qui vediamo un po' cosa produciamo sì energia mf allora facciamo time set zero per fare il giorno così produrrà energia produrrà energia ah già 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 qua era una prova con questi leviamo questi qua togliamo questa roba prendiamo un cable cable ma che dico vediamo solar solar panel questi li dobbiamo fare prima o poi light voltage vabbè sono un po' lunghi da fare perciò magari light voltage no però il medium sì ops ho sbagliato qualcosa low per fortuna che ho fatto tutto in creative low li regge come si regge li mettiamo un pochino così abbiamo abbastanza energia vediamo un po' sip e un pochino sta salendo mettiamo questa non esplosa per fortuna andiamo un po' sì sta scendendo perché è normalissimo che succeda sì ce la posso fare lever pronti partenza oddio ok non esplode l'importante è questo allora come questa qui è un po' lenta all'inizio come vedete c'è un valore hit che sale che è fatto di una percentuale questa percentuale deve quando arriva a 100 resta ferma su 100 il che le rende possibile scusate il rutino quando arriva a 100 praticamente cuocendo le cose diventerà velocissimissimissima il che renderà il tutto più figo molto più figo come vedete come già vedete un po' lentino a salire però poi quando è arrivata al 100% è perfetta e resta costante naturalmente perciò perfetto lo possiamo collegare direttamente alla eh sì cosa sto facendo lo possiamo collegare direttamente alla non mi viene il nome ehmfe sì questo probabilmente è il nome però io ho paura lo stesso ho paurissima lo stesso ma che cosa ho fatto ma questo là ma spero di aver collegato ah già 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 questa non è un'uscita ma se io lo ha coloro è una domanda mia questa ma se io lo ha coloro si scollega da qui no eh peccato peccato quindi ci toccherà far passare un bel cavetto simpatico qui quindi dovremmo distruggere tutto l'ordine che avevamo fatto no mi dispiace troppo no 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 già mai già o mai quindi leviamo questo ecco mai toglierlo con la con la con la colla ma che cosa ho fatto vabbè al massimo mettiamo una cover ascoltate non posso farci niente facciamo un po' di cavi visto che dove ci servivano allora redstone diamond glass così facciamo le cose fatte bene perlomeno ok un bel po' di cavetti facciamo così così mettiamo la fornita aiuto sì vabbè qua finirà la corrente in un attimo anche perché probabilmente ecco è notte naturalmente come è normale che sia nel mio mondo eh sì 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 allora non so esattamente quanto registrato perché mi sono dimenticato di accendere il timer aiuto aiuto mi spaventa sempre scenderà non scendi ti amo se riesci a stare costante così ti amo per tutta la vita forever and ever naturalmente facciamo no ma che fai ma che fai ma che fai mettiamo questa così la pedana sì 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 la pedana per ricaricare magari la mettiamo qui così arrivo oddio no se non sbagliare questa è che colpendo l'aia ecco infatti si è distrutta sono un idiota sono un idiota sono un idiota vabbè come vedete non è poi così lenta dai poi qua resta tutto tutto pieno sono contento ma quanti panni avevamo messo 8 sì bene basta ne avanzano perfetto allora io adesso direi di aspettare nel frattempo facciamo un'altra cosa per non restare fermi sapete che palle che palle che palle quello che facciamo è lo sludge boiler no non è vero dicevo la blast furnace ho sbagliato il nome lol allora ho fatto questa pausa perché non mi ricordavo il nome in effetti allora la blast furnace è una fornace che come oddio che come questa come la cook even o cook oven addirittura produce delle cose ed è anch'essa un bel po' lenta vabbè non tanto però vabbè abbastanza si può dire la metteremo tipo qua a fianco non ci sta perché tre blocchi per tre azzarola potremmo spostare questa tutta qui e then metterne un'altra a fianco però non ci starebbe lo stesso perché sono anzi si che ci starebbe azzarola azzarola no non ci sarebbe lo stesso sono un po' combattuto devo dire la verità cosa faccio cosa non faccio distruggo questa no 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 innanzitutto iniziamo a craftarla adesso poi troveremo una sistemazione allora vi spiego un pochino la blast furnace ci permetterà di fare lo steel che ci permetterà di fare una cosa per produrre energia molta 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 energia attraverso il vapore adesso non vi anticipo nient'altro iniziamo subito a craftare allora ci serviranno allora un blocco 3x4x3 quindi eeeh mazzo se ne sarebbe un po' allora non avrò 36 blocchi giusto allora 3x4 12 si 24 yes 36 azzarola quindi 36 magma crucible quindi 36 slime ball quindi credo che ci toccherà andare a prendere altre slime ball che pizza ragazzi ma dov'era 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 ho perso i way point cacchio vabbè cerco i way point prendo un po' di slime ball e torno a frape e se vi dicessi che anche gli slime ball che anche gli slime mi hanno spaccato il culo si non sto scherzando che mi stavano per uccidere vabbè dettagli 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 allora ho perso un pochino di slime ball ora quindi com'era la farm erano 36 quindi no fermi fermi tutti fermi tutti fermi tutti c'è una cosa che non avevo calcolato merda ogni cosa ne da 4 quindi porcaccia 36 diviso 4 fa tipo 36 diviso 4 9 9 mi servono 9 magma cream quindi 9 slime ball quindi 9 blades powder blades powder ok slime ball perfetto mandiamo via questa roba mettiamo le magma cream nether brick cazzo ne abbiamo yeah poi l'altro era soul sul sender ne dovremmo avere perchè l'avevo presa per la cosa perfetto perfetto ah scusa un attimo che ho tipo disattivato il timer probabilmente ah no non l'ho proprio attivato ma che bravo che sono quindi vabbè non possiamo andare più oltre di così 36 blocchi perchè continua ad esserci what else non so perchè l'ho fatto però ne ho preso in più vabbè dettagli dettagli piccoli dettagli allora una sistemazione come avete capito è un multiblocco quindi gg però usiamo il 36 se no mi flippo quindi qua sotto non ci sta meno che non lo metto qui si tutto disordinato mi piace tutto disordinato quindi così è alta 4 quindi dobbiamo anche scavare un pochino per terra sperando che non ci sia qualcosa di importante perchè dobbiamo mettere dei cavozzi poi oh teo smettila di lagare ti prego ti prego ok forse ce l'ho fatta allora non mi ricordo esattamente com'era il multiblocco mi ricordo che era molto 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 grande non so se è che questo deve avere un blocco nel centro vuoto tipo proviamo anzi no proviamo a farlo pieno no non si calca quindi probably bisogna lasciare un buco al centro vediamo un po' non mi viene a mentire nient'altro tutti e due i posti qua al centro vuoti è così io so che è così me lo sento guarda cosa sto mettendo what the fuck vi devo informare mi informo subito allora mi sono informato deve essere allora il primo layer liar what the fuck che cos'era quello allora fermi tutti distruggiamolo un attimo allora primo layer layer che cazzo pieno secondo layer buco terzo layer buco quarto layer pieno ah si è già formata non so dove però si è già formata ma io ti volevo verso qui ti prego credi creati verso qui che ti costa ciac niente va bene avremo un ammasso di niente qui allora blast for nace vi spiego subito come funziona allora perchè noi stiamo producendo charcoal ecco spiegato l'arcano ora spero che sia così perchè non me lo ricordo è passato un bel po' di tempo vediamo dimmi di si ti prego yes ma un'altra cosa che voglio vedere a questa perchè ho questo valvo ricordo no no e poi un'altra cosa niente solo charcoal perfetto allora ho fatto benissimo allora si questa è una fornace speciale che cuoce solo una cosa e la cosa si chiama iron e la fa diventare steel cosa ci permetterà di fare una cosa ben precisi fermi tutti non cuocere ecco abbiamo appena consumato un charcoal adesso dobbiamo fare in modo innanzitutto di fare l'arrivare automatico il charcoal e poi anche l'iron o perlomeno l'iron che le diamo noi non tutto perchè se no no se no 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 nope allora m e cable prendiamo gli m e cable prendiamo gli m e export bus si esatto ce ne serve uno poi abbiamo degli import la risposta è nope come al solito allora vediamo dove vabbè ce li abbiamo qui perfetto 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 quindi scappiamo così dovremmo avere eh perfetto allora tu te ne vai a fare eh un giro come si suolta allora questo non serve questo si ai 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 che stavo facendo non posso devo mettere la stone si sono un maniaco sono diventato un maniaco dell'estetica ora facciamo così 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 ricolleghiamo questo che non so perché ho scollegato vabbè mettiamo la stone mettiamo la stone 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 perfetto facciamo salire un bel cavetto and then facciamo salire su yes mettiamo un export bus vediamo se si prende il coal no per fortuna e se noi mettiamo a cuocere un iron mettiamo cuocere un iron va bene è un po' lenta nel tanto nel tanto che è quello carico vorrei vedere una cosa ti sei caricato a cioccolare ti prego sei posso darmi una dimostrazione per esempio oh ma io voglio un po' di iron cioè avete visto voglio rifarvelo rivedere in un attimo è velocissima è velocissima mi fa emozionare va bene va bene va bene intanto avrà cotto sicuramente l'iron si certo dai 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 lo vedremo in diretta scatta sulla fascia corre corre è derrate no non davvero piano piano passano i giorni gli anni è quasi finito ti prego vai qui passa al lato scuro eh si beh certo come no non puoi dirmelo non puoi cioè capisci cosa voglio cosa voglio intendere io adesso te ne metto un altro nel partito prendo questo e le dico aspira lo steal le dico move stacks of items tu devi essere preso assolutamente io mi ricordo che hai i lati però non mi ricordo quali quindi credo credo innanzitutto credo che questo deve andare un blocco più giù mi sa innanzi di tutto vediamo un po' cosa ha preso niente prendiamo lo steal a stack grazie grazie ok nel tanto che cuoce io direi di collegare la furnace in qualche modo in qualche modo parliamone questa vorrei poter cuocere automaticamente non automaticamente parliamo non intendo tipo io cuocio e automaticamente va tutto nell'impianto potrebbe essere interessante si potrebbe 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 però prima andiamo a nanna e no devo chiudere la puntata invece perché probabilmente è passata una o due reti fatemi controllare sono le 19.10 ho registrato una puntata da un'ora e dieci mi sa mazzo quindi io sono spigano se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete vi trattate sempre su twitter google plus sul mio sito spigano punto x10 punto mx e anche su facebook e cliccando facebook.com slash spiegano tutto ufficiale oppure cercandomi nella barra delle ricerche e niente il video è finito ciao a tutti ciao